Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Paola Di Benedetto non si è trattenuta e quando ha rivisto il suo ex lo ha salutato con una frase che ha lasciato senza parole l'intero pubblico Ecco che cosa ha detto la ex madre natura di Ciao Darwin.La speaker radiofonica di RTL 102 5 ha raggelato gli spettatori con una frase che è suonata davvero come una minaccia velata Paola Di Benedetto ha incontrato la sua ex fiamma dopo la rottura, ecco che cosa è successo tra la conduttrice e il famoso cantante che ha partecipato al festival di Sanremo Paola Di Benedetto, la frase all'ex che non è passata inosservata Nei giorni scorsi nella splendida cornice dell'Arena di Verona si è tenuto uno degli appuntamenti più attesi dell'estate per tutti gli appassionati di musica, c'è stato il Power It's Estate, il magico evento organizzato da RTL 102 5. L'emittente radiofonica tra le sue voci di maggior successo quella della splendida Paola Di Benedetto che è stata al time dell'evento Cannoro Si tratta di una speaker che senza dubbio conoscete già tutti benissimo, perché prima di approdare in radio ha cominciato il suo percorso professionale nella moda e successivamente sul piccolo schermo In tv è stata l'ammaliante madre natura di Ciao Darby. Non solo, Paola ha anche partecipato al GF VIP 4, e all'Isola dei Famosi Alla speciale manifestazione d'eccezione hanno partecipato moltissimi artisti, tra cui il rapper Arcomi, una delle voci della scena urban più seguite del momento che ha avuto un successo enorme con la canzone Insuperabile A quanto pare proprio a lui la conduttrice ha rivolto una frase che ha suscitato tanti dubbi e qualche sospetto Scopriamo che cosa ha detto sul palco Paola Di Benedetto.La frase particolare della conduttrice al cantante Per Paola presentare Arcomi sul palco non è stato come presentare gli altri cantanti, perché il rapper è la conduttrice di RTL 102 5 Nei mesi scorsi hanno avuto un chiacchieratissimo field. I due da quando hanno smesso di frequentarsi non si erano più rivisti e lo show è stata l'occasione per incontrarsi di nuovo Ma trovarsi faccia a faccia non ha suscitato la reazione che i fan speravano Paola Di Benedetto infatti, dopo aver annunciato che a breve Arcomi sarà uno dei giudici di X Factor ha aggiunto, magari ti vengo pure a trovare Mirko, nome di battesimo dell'artista ha tentennato un attimo e poi ha risposto con un suonato abbastanza laconico volentieri Se la sono cavata nascondendo l'imbarazzo e cercando di tirare fuori la massima professionalità ma ai più attenti non è sfuggito l'imbarazzo tra i due ex e a tanti quella di Paola è sembrata più una velata minaccia che una proposta Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo nei prossimi video